Ragazzi buona giornata a tutti, buona giornata a tutti, allora innanzitutto prima cosa a fare qual è? Mettere mi piace al video come vi dico sempre, mi raccomando gratuitamente per supportare il canale Dato che dite che mi apprezzate quantomeno appunto dimostratelo con un mi piace gratuito per appunto supportare il canale Poi vi vedete e vi guardate il video anche perchè insomma il 23 maggio insomma sono da quasi 10, no da 10 anni esatti il 23 maggio Su Youtube noi, noi, a noi piace crescere diciamo onestamente nel senso che a noi ci piace crescere a livello appunto di community Per quanto riguarda il mio canale in maniera schietta, sincera, onesta portando contenuti ok? Che non sempre possono essere chissà che contenuti però sicuramente contenuti miei, soprattutto contenuti nostri Quindi a noi piace crescere più onestamente rispetto a qualcun altro Insomma questa è una scelta politica che ogni Youtuber o chi per esso Perchè secondo me, vabbè, ci sarebbero altre cose a dire Però chi per esso insomma cresce come meglio crede, no? Quindi gestisce come meglio crede il proprio canale A me piace, è sempre piaciuto così Non ho mai sinceramente, piccola parentesi, piccola premessa Non ho mai di fatto rosicato tra virgolette per chi magari era da poco tempo, da meno tempo di me su Youtube e poi ha fatto l'expload Poi è andato 80, 90, 100 mila iscritti, 300, 500 mila iscritti magari essendo anche nel mio gruppo Inizialmente che poi ho abbandonato per mia volontà perché magari non mi trovavo bene E non ho mai approfittato di colleghi Ecco questa cosa qui va, la tengo, non faccio mai questi discorsi qua però tengo a sottolinearla Non ho mai approfittato di miei colleghi qui su Youtube Quando ho avuto dei rapporti di collaborazione Sono sempre stati rapporti di collaborazione ma rapporti di fiducia prima di tutto Ed è questo con molti, poi con qualcuno purtroppo sbagli giudizio o comunque tra virgolette devi collaborare perché fai parte appunto di un gruppo Però detto questo io sinceramente sono contento, sono veramente contento del mio percorso su Youtube Per come lo sto coerentemente portando avanti Perché sicuramente qualche proposta per fare magari il salto mi è stata fatta Ma non ho accettato proprio perché sembra un discorso no populista Non tutti riescono a farlo e me ne rendo conto e ripeto ognuno fa le proprie scelte Però anche se magari ci guadagni di più non riuscirei appunto a poi godermi e a divertirmi su Youtube Se non portassi un qualcosa che mi piace semplicemente per guadagnare un qualcosa in più Ecco questo ci tengo a sottolinearlo E mi piace appunto come parlo di calcio al di là di adesso con la Juventus di Allegri E speriamo che cambi l'allenatore anche per questo e adesso arriviamo al punto Detto questo, scusate questa piccola premessa Ma era doverosa dato che siamo vicini al decennio insomma su Youtube È giusto anche dire alcune cose appunto Poi quando ci sono 10 anni ufficiali faremo una live insieme e quant'altro E parleremo un attimo di questa crescita di 10 anni Che io sono cresciuto sempre comunque lentamente, pian piano Ma credo che in un mondo dove è tutto veloce Credo che chi mi segue apprezza questo Cioè che comunque ho cambiato delle opinioni, ho cambiato delle idee Ma mai per convenienza ma semplicemente perché mi sentivo di cambiare opinioni, idee in quel momento là La coerenza sta nella metodologia che ho sempre avuto Ecco questo sicuramente anche se a volte magari Ragazzi nel mondo si è incoerente a volte Quindi succede magari anche a me di essere stato incoerente Ma sempre in buona fede Mai appunto per secondi scopi Cosa che qui su Youtube purtroppo è difficile trovare Ma non sto qua a elogiarmi Anche perché ci sono molti colleghi Che hanno molti più numeri di me Ma sono anche bravi E si sono meritati appunto il successo che hanno Quindi sotto questo aspetto nulla da dire Allora Partendo da questo discorso qua Prima di affrontare alcuni due argomenti che poi affronteremo Allora io vorrei far sentire le parole di Scarnavino a giugno 2023 Alziamo il volume Si sente basso Non sono banali da gestire Quindi detto questo chiaramente l'impegno è totale Vogliamo ripartire anche su questo Siamo allineati con tutti Con massima umiltà Massimo impegno Totale autocritica Per poter metterci al più pesto In una rotta che possa dare il meglio dei risultati sul campo E magari anche esprimere un gioco migliore Rispetto a quanto si è visto magari negli ultimi tempi Come dicevo Dettato probabilmente anche da delle situazioni Non normali, non banali da gestire Io vedo un futuro di grande impegno Di grande lavoro di squadra Da fare con umiltà Mettendosi in discussione E con l'obiettivo ovviamente sempre di migliorare E tenendo i piedi ben saldi per terra Ecco, vabbè L'ultima parte no Mettendosi sempre in discussione Mi viene subito in mente un certo personaggio Che abbiamo sulla nostra panchina Ma va bene, va bene Poi ha parlato di gioco da migliorare Che non abbiamo fatto chissà che calcio Perché era dovuto a Alle situazioni dell'anno scorso Ma carissimo Scanavino Probabilmente non hai mai visto Allegri Allenare prima in dieci anni Perché Allegri è sempre stato questo Infatti quando si è tirato fuori il discorso Della giustificazione Della sentenza Della penalizzazione A me ha fatto sempre sorridere Questa tutela Questa giustificazione E perché questo? Perché Allegri è sempre stato questo Cioè non è che Dopo la sentenza del 20 gennaio 2023 Hai visto una Juventus Crollare a livello di prestazioni E crollare a livello di risultati Tu eri quello Eri quella Juventus prima E lo sei stato anche dopo Cioè non è a livello di prestazioni È quello che Cioè È quella la Juventus di Allegri È quello Allegri Ok Come adesso Adesso Fabio Capello Come anche altri tifosi Tifosi Juventini Mi vengono a dire che Fino a febbraio Fino alla partita Con l'Empoli Con l'Inter La Juventus Allegri stava facendo un miracolo Ragazzi Allegri non ha fatto nessun miracolo In questi tre anni Perché io veramente Mi sono rotto il cazzo Voi non siete Vabbè Capello non è tifoso Ma chi È d'accordo Non è tifoso Della Juventus È tifoso di Massimiliano Allegri Che in un modo o nell'altro Adesso si sente costretto Di dire che va esonerato Ma che comunque Se deve scegliere Sceglie di stare Da parte di Allegri Questa è la verità Questa è la verità C'è poco da fare Miracolo di cosa Il primo anno La giustificazione Del non mercato Quando è lui Che gli è andato bene Locatelli Ed è lui Che gli è andato bene Ed è lui Che ha chiesto La cessione di Ronaldo Perché non si trovavano D'accordo Ci sarebbero scontrati Tutto l'anno Loro due L'anno dopo Il mercato è stato fatto Ma la giustificazione Qual è? Eh ma con un budget Limitato Ah sì? E mi tirate fuori Però l'Inter Lo squadrone dell'Inter E con quanto L'hanno fatto Lo squadrone loro Con quanto L'hanno fatto Lo squadrone loro Guardate che La società Ha ascoltato Allegri Perché ricordatevi E tutti i principali Giornali italiani Giornalisti italiani Riportavano Che Allegri Era tornato All'Iuventus Da manager Da manager Sapete cosa significa Da manager? Che avrebbe fatto lui I mercati successivi E il secondo anno Il mercato Se l'è fatto lui Ha chiesto lui Di Maria Ha chiesto lui Pogba Ok? Ha chiesto lui Paredes Ha chiesto lui Kostic Ha chiesto lui Un attaccante A gennaio 2022 E gli hanno preso Vlaovic È stato ceduto D'Elite Forse l'unico Che non voleva Era Bremer Però l'ha accettato Quando il Napoli Dato che Decantate tanto Il Napoli Ok? Il Napoli Che comunque Ha preso una stagione Da contestualizzare Perché Non sono questi Grandi fenomeni Tant'è che Kim Fa panchina Al Bayern Monaco adesso Quando vi dico Che qui in Italia Vengono sopravalutati I giocatori Per una buona stagione Che fanno Kim adesso Dato che Criticavate tanto Il signor D'Elite Adesso Kim Fa panchina Oppo Meccano D'Elite E anche un altro Che adesso Non mi ricordo Eh Se dobbiamo dire Tutta Però Comunque Kim Quanto è stato pagato 15-18 milioni Più o meno Varaskei la stessa cosa Varaskei la ricordo Che è stato consigliato Da Spalletti A Giuntoli E Giuntoli È andato a prenderlo Kim è stato bravo A Giuntoli Però ricordiamoci Che è lui Che è allegri Che ha voluto Il cazzo di mercato Che gli han fatto E che non contano Solo i cartellini Perché se tu mi prendi Un Mi fai prendere Un giocatore Filmando un quadriennale A 8 milioni l'anno Che arriva dall'Inghilterra Quindi significano 16 lordi All'anno È un cartellino Di un giocatore All'anno 16 lordi All'anno Lasciate stare Quello che è successo dopo Che non ha mai giocato Praticamente poi qua Perché è arrivato Si è rotto il menisco Perché comunque Arrivava da problemi fisici Cronici E quando hai un corpo Problematico Poi ti porta ad avere problemi Anche dove non li hai avuti È questo che cercavo Di spiegare al tempo Ma la gente Non mi ha dato corda Non mi ha dato ragione E poi alla fine Il tempo Parla sempre Perché Ripeto Molte volte sbaglio Ma sbaglierò Ma ragazzi Siamo qua su youtube Parliamo Diciamo 10.000 cose 10.000 pensieri Ci mettiamo la faccia Ci mancherebbe anche altro Che non sbagliassimo Sbagliano i tesserati Sbagliano i direttori sportivi Gli osservatori Gli allenatori I presidenti Non possiamo sbagliare noi Ma certo che sbagliamo Ma lo ammettiamo Io lo ammetto Quanto meno Quando sbaglio Ma sopra Qui su youtube Ragazzi Prima cosa Prima cosa Qua su youtube Non mi sentirete mai Chiedere scusa Per un errore Perché per me La parola scusa Va usata In termini Diciamo In situazioni Gravi Tra virgolette Personali Non sportive Qua posso dire Che ho sbagliato E questo lo ammetto Su alcune cose Su molte cose Ho sbagliato Ma come Te lo rinfacciano Quando sbagli E' molto più probabile Che ti rinfacciano Quando sbagli Allora è normale Che dall'altra parte Cerchi di riportare Quando però C'ha zecchi Le cose Ok Su Pogba Penso di averci visto lungo Ok Però Al di là di quello che è successo Che quello era imprevedibile Cioè Non ho previsto Quello che è successo dopo Purtroppo E' vabbè Pogba Paredes Stagione pessima Stagione pessima Che con Mourinho Arriva De Rossi E' vabbè Non è che stia facendo chissà che cosa Però qualche partita Migliore l'ha fatta A me non faceva impazzire Paredes Lo sapete bene No Come non faceva impazzire Piani Ci sono giocatori Siccome Nella norma Che ne trovi A bizzeffe Migliori di loro Però Vabbè Paredes Poi Che cazzo è Ah Che tra l'altro La Roma è superiore Paredes faceva panchina a Locatelli No Che viene tanto criticato a Locatelli Paredes faceva panchina a lui Probabilmente anche a Locatelli Che è un mediocre Lo ripeto Mettendolo in un contesto diverso Probabilmente Anzi Sicuramente Non è questo giocatore Quale renderebbe di più Ma poi No La rosa della Juventus Cioè Voi vi rendete conto che Ma sono stato il primo critico Su Lavic E il primo critico su Bremer Però mi ricordo Dall'altra parte Che sono gli stessi Gli stessi stronzi Che adesso Pur di giustificare In un modo o nell'altro Direttamente o indirettamente Massimiliano Allegri Sminuiscono questi acquisti Ok Gli stessi Che all'epoca invece Mi attaccavano Perché non capivo Un cazzo di calcio No Perché Vlaovic È dieci volte Morata Cosa che io vi ho sempre detto Che come attaccante Completo È meglio Morata Di Vlaovic Ma soprattutto anche Contestualizzandolo Al gioco Dello stesso Allegri Perché Allegri Ha chiesto un attaccante Gli è arrivato Siccome E ha accettato lui L'attaccante Peggiore Che gli potesse arrivare Per il gioco Che fa lui E là invece No ma Vlaovic Sa proteggere il pallone Spalle alla porta Cosa che vi dicevo Non lo faceva neanche la Florentina E mi pare Che si sia verificato Ciò È migliorato un pochino Sicuramente Ma non è questo Morata Sotto quell'aspetto È migliore di Vlaovic No Detto questo Ho sempre detto Che per me A livello di finalizzazione È meglio Vlaovic Di Morata Questo sicuramente Ma devi costruire Una squadra Che sappia creare E costruire Molte palle e gol La partita Cosa che con Allegri È difficile Ok Quindi io spero Che magari Con un futuro Tiago Motta Vlaovic Si sblocchi anche mentalmente E prenda Consapevolezza E se fa Tanti gol Tanto di cappello Tanto di guadagnato E Sono contento Ok Però In quel In quel Contesto lì Comunque Non rimane Cioè Rimane il fatto Che era meglio Morata Di Vlaovic Tant'è che poi Pensavo Vabbè Se Morata Poi viene messo Come riserva Un conto Invece è stato messo Come seconda punta Come esterno Come seconda punta Tra virgolette Ma molte volte Anche esterno In centrocampo Addirittura Per fare il lavoro sporco Ha distrutto Morata Tant'è che Morata È stato Era un falso 9 Poi si è trasformato In una prima punta Vera e propria Sta facendo bene Adesso a parte L'ultimo mese e mezzo Che vabbè Ce l'ha sempre Sto mese e mezzo Però Vabbè Ciao a tutti Vlaovic Allora Cos'è che si diceva Di Vlaovic Miglior attaccante In Serie A Bremer Miglior difensore In Serie A Locatelli Miglior centrocampista Quando è stato preso Locatelli Cazzo Sembrava che fosse Il nuovo Pirro Adesso Io no A me non faceva mai impazzire Infatti ho sempre ritenuto Supervalutati Sti acquisti qua Come chiesa stesso Anche prima Di infortunio Ma Locatelli Se ne parlava Benissimo Di Locatelli Cioè In Italia Prendere Locatelli Significava Sebbe significato Mettersi a posto Centrocampo Per i prossimi 10 anni Questo sembrava Avete la memoria corta Vabbè Bremer Blavic Locatelli Chiesa Migliore esterno D'attacco Che poi Esterno d'attacco Da noi Non l'ha mai fatto Puro Intendo Perché poi Parte dall'esterno Ma comunque Senza un altro esterno D'altra parte Quindi Mettiamo chiesa Costici Il grandissimo Esterno Di centrocampo O E o Esterno difensivo Che col Francoforte Col Francoforte A 30 anni Ha fatto grandi cose Però queste cose qua Io le dicevo prima Nonostante criticassi comunque Allegri Le dicevo prima E invece Mi venivano a dire Che comunque Costice È stato il miglior assist Ma sì 377 cross Prima o poi Come quadrado Uno lo azzecherà Costici Mi ricorda tanto Anzi Secondo me Sotto quell'aspetto Anche meno qualità di Krasic Vi faccio un esempio Vabbè Però Il calcio mondiale Anche quello italiano Si è abbassato Questo lo sappiamo Perché la Roma Che arrivava a seconda Contro l'Inter Che ha vinto poi Tutto Questo campionato qua Vincerebbe il campionato Molto probabilmente No Vabbè È anche il Napoli-Sarri A livello di Di rosa Cioè Io Dopo queste cose qua No Il miracolo E questo è il secondo anno No Il terzo anno Ah il secondo anno Poi sono arrivate le sentenze Perché poi Le sentenze Il mercato è stato fatto Per lui Poi è le sentenze Le sentenze Quando a novembre Eri a meno di 10 a Napoli Andatevi a vedere La classifica a novembre A meno di 10 a Napoli Fuori da tutto Fuori dalla Dalla Champions League Quando aveva detto Che la Juventus Dove essere Ad agosto del 2022 Aveva detto Che la Juventus Sarebbe dovuta essere A novembre Prima della pausa Mondiali Quarta Ed eravamo tra le prime Quattro Ma bisogna anche vedere Come sei tra i primi Quattro Cioè a meno di 10 a primo Anche no E aiutavi i finali Champions E non ero Aiutavi i finali Champions Solo quello Bastava per cacciarlo Evidentemente E c'era ancora Andragnelli Ancora Andragnelli Quindi poteva cacciarlo Già lui Andragnelli Figuriamoci John Elkan L'ha tenuto Perché Perché A lui Non fa comodo Adesso arriviamo al dunque Non fa comodo Tenere Allegri Per far sì Che sia Da parafulmine Ma semplicemente Perché Gli garantiva L'ingresso In Champions Il problema È che Il signor John Elkan Non capisce Che per i soldi Che chiede di entrare In Champions Allegri Ha fatto perdere Tra l'ultimo anno Del primo ciclo E i tre anni successivi Oltre 350 milioni Di euro Tra cartellini In gaggi Spesi Per giocatori Che ha voluto lui Eliminazioni di Champions E posizionamenti Cioè ragazzi Questi sono dati di fatto Sono dati di fatto Perché se si guarda I soldi Che potrebbe far perdere Un altro allenatore Allegri ne ha già fatti perdere Molti di più Rispetto a qualsiasi altro Allenatore Più promettente Più emergente E quant'altro Che Secondo me Non avrebbe fatto perdere Quanto meno più soldi di lui Se dobbiamo Metterla così Metterla così Punto E ci stava per far perdere Anche i soldi Del mondiale Per club Perché lasciate stare La squalifica Ma noi Facendo il nostro Contro il Villareale Soprattutto nel girone L'anno scorso Noi saremmo stati Al mondiale per club Senza Patemi E senza Stare lì a guffare Fino all'ultimo secondo Il Napoli Questa è la verità Quindi anche là Il premio mondiale per club Ci sta Pensando Ma il mondiale per club Non è merito suo Perché deve rimanere Per il mondiale per club Allegri Che Ripeto In proporzione In merito Per il mondiale per club E del mondiale per club È di Andrea Pirlo Dell'anno di Andrea Pirlo Se dobbiamo dirla tutta Eh Vabbè Comunque Il miracolo Terzo anno Avete sentito Avete sentito le parole Scanavino Cos'è cambiato Rispetto all'anno scorso Si gioca di merda Prestazioni di merda Indegni Indecenti Vinci Hai vinto a culo Molte volte O comunque episodicamente Capello Capello che dice che Fino a febbraio Stava facendo Miracolo A livello Di risultati Ma Poi Purtroppo Capello È un altro Lennatore Che infatti Abbiamo visto Che cazzo Di figure di merda Ha fatto in Champions Con noi Perché ha vinto Una Champions Grazie a Sacchi Perché Grazie a quello Che ha lasciato Sacchi Detto questo Ha fatto due figure di merda Con noi Contro Arsenal E Liverpool O Liverpool E Arsenal Ok E ha il coraggio Di parlare Di prestazioni Di miracoli Di queste robe qua Capello Capello Cioè tu sei Dovresti essere Il primo a stare zitto Per le Strafigure di merda Che ci ha fatto fare In Europa Con quella squadra Parlano Anche questi Parlano Il miracolo Dove sta il miracolo L'impresa Che ha fatto Allegri Che hai vinto Porca puttana Adesso veramente Adesso Mi avete veramente Fatto girare i coglioni Perché adesso Andiamo a vedere Un attimo Dalla Il girone D'andata No? Perché guardiamo Il girone d'andata Allora Qua siamo 21esima giornata Vabbè Guardiamo Anche Vabbè Questa è la 26esima giornata Scusate 26 Ok Ventesima giornata Hai vinto Juventus Assuolo 3 a 0 L'unica vittoria Ok Allora Prima Ancora prima Hai vinto A Salerno 1 a 2 Con l'esposizione Della Sanitana Ma vi ricordate Come abbiamo vinto Bene Abbiamo vinto Contro la Roma 1 a 0 Con gol di Rabiot Abbiamo fatto Mezzo tiro in porta Anche lì Ma vabbè Poi Frosinone Juventus 1 a 2 E vi ricordate Come abbiamo vinto Frosinone Geno Juventus 1 a 1 Ok Ma guardiamo le vittorie Non voglio pareggio Juventus Napoli 1 a 0 Anche là Non sappiamo neanche noi Come abbiamo vinto Poi Monza Juventus 1 a 2 E anche là Abbiamo rischiato E non poco Perché comunque Abbiamo concesso Poi vabbè Juventus Inter 1 a 1 Juventus Cagliari 2 a 1 Abbiamo sofferto Anche contro il Cagliari Fiorentina Juventus 0 a 1 Quando loro ci hanno schiacciato Dominato E noi abbiamo fatto un tiro Un contropiede Un gol Praticamente Vabbè Vi ricordate Con Parisi Il grande Parisi Che mi dicevano Che è un gran terzino Che ha sbagliato Il tempismo Lì va bene Poi Juventus Verona 1 a 0 Vabbè Vabbè Quando abbiamo perso 1 a 0 Poi Juventus Lecce 1 a 0 Con la loro espulsione Vi ricordate Quella partita lì Di merda Un'altra partita Di merda Cioè abbiamo giocato Malissimo Giocato veramente Malissimo Poi vabbè Poi c'è Tutto questo Prima Dopo scusate La sconfitta Contro Sassuolo Per 4 a 2 Non vado avanti Però se vi guardate Praticamente qua siamo Contro Sassuolo Era la quinta Sesta giornata Noi dalla sesta giornata Alla diciannovesima giornata Voi andatevi a vedere Le partite che abbiamo vinto Come le abbiamo vinte Dove sta il miracolo Bisogna contestualizzarle Le partite Molte volte Noi abbiamo vinto Perché noi abbiamo sfruttato Una palla gol O mezza palla gol E gli altri Se ne sono mangiate 4 Semplicemente adesso Si sta rigirando Tutto quello che ha avuto prima Tutto lì Tutto lì Punto E' inutile dire Che ha fatto il miracolo Allegri non ha fatto Nessun miracolo In questi 3 anni Anzi L'unico miracolo Che ha fatto Ok E' che è ancora Sulla panchina nostra Questo dovrei sapere Dovrei avere Una spiegazione Per questo Massimiliano Allegri Non ha fatto nessun miracolo Massimiliano Allegri E' un miracolato Che è diverso Che è diverso Punto E' diverso Eh Poi Sta storia Del parafulmine Allora Allegri Non è Alcun parafulmine Perché Perché Proprio per un discorso Economico Ok Lui A lui va bene Che vada in Champions Solo per quello Senza calcolare Però che anche La John Elkans Come fa male i calcoli Perché Con tutto quello Che gli ha fatto perdere Vabbè Non avrebbe senso Ok Scaricare Tra virgolette Il fatto che Allegri è un parafulmine Quando alla fine Ti serve per andare in Champions Quando è la stessa Cioè Un conto è Fosse la società Che dice Il nostro obiettivo E vince lo scudetto O vince la Champions E Allegri arriva Tra i primi e quattro Ma se è la stessa società A dire che Il nostro obiettivo E arrivare tra i primi e quattro Non può essere Un parafulmine Allegri Perché a livello di risultati È così O no È così Le prestazioni Non ti interessano Te John Elkans Perché non capisci Un cazzo di calcio Quindi figuriamoci Non capisci un cazzo Neanche di Ferrari Vabbè Però Non capisci un cazzo Di tutto quello che hai Tra le mani Non capisci un cazzo Tu hai avuto solo Il culo Che ti è piovato Piovuta Scusate Piovuta Un'eredità del genere Tra le mani Fine Questo è Punto Questa è la verità Però Vabbè Andiamo avanti No Il parafulmine Allora Ma anche se fosse Un parafulmine Non ci stanno soldi Che tengano Perché Qualora Tu Non ti Dovessi dimettere Ok E qualora tu scoprissi Che appunto Di fatto Sei il parafulmine E non ti dimetti Per una questione economica Mettiamo che è vera Questa roba economica Ma per me è una questione di carriera Non economica Per questo Allegri Non si dimette E di orgoglio Tu accetti questa situazione E quindi stai zitto Se prendi le critiche Se prendi gli attacchi Se prendi Tutto quello che c'è Tra i tifosi I giornalisti Agli opinionisti A chi cazzo vuoi te Giornalisti pochi Per fortuna Qualche onesto intellettualmente C'è ancora Tu te ne stai zitto Punto E se ne sta zitto Anche chi ti difende sempre Perché se sei Veramente il parafulmine Per dignità Per orgoglio Anche là Dovrebbe centrare Anche lì l'orgoglio E per amor proprio Ti dimetti Ma se non lo fai E se è vero Per una questione economica Bene Tu prendi 7 milioni di euro L'anno Più due di bonus Bene Li prendi anche per essere Insultato e attaccato Perché non ti sei dimesso Perché appunto Fai il parafulmine Sta stronzata qua Il parafulmine Ragazzi Per me è proprio Una stronzata Nessuno è un parafulmine Perché se Uno Sa E capisce Di esserlo State sicuri Che non c'è Il soldo che tenga Prende E si dimette Perché così Semplicemente Si distrugge ancora di più La carriera Cosa crede Che Possa Ripetere Quella Quella rimonta 15-16 Ma nel 15-16 Tu avevi Dei giocatori Che facevano Spogliatoio da soli Cazzo Facevano leadership da soli Dicevano ragazzi Qua non va bene Questa cosa qua O si svolta O vi prendiamo Pedate in cu A tutti Questo facevano Quei senatori là Che poi molte volte Senatori o meno Hanno sbagliato Anche loro Però era questo Adesso Dovesti essere tu Il valore aggiunto E non lo sei Come ha detto La Nokia Che per carità Era Nokia Però Ha giocato Insomma Serie A Ha detto Nel calcio moderno L'allenatore conta L'80% I giocatori 20% Non sono d'accordo Sulla percentuale Ma sul Diciamo Sul discorso Si Per me è 50-50 Però L'allenatore bravo Quello che allena Quello che insegna È 50 Gli altri allenatori Come Allegri Mourinho Questi allenatori qua Che sono più gestori Anche lo stesso Ancelotti Per me danno il 30% Tant'è che hanno Vinto Senza fare Chissà che calcio A parte Ancelotti Col Milan Però Vabbè Solo gestendo Di fatto Ok Allegri A differenza di questi Degli altri due Però non ha vinto Nenca una Champions Quindi anche sta roba Del parafumire Ma non regge più Ragazzi Non regge più Non regge più Non regge più E il discorso Del miracolo Allegri Fino a febbraio Ma sono puttanate Ma sono troiate Cioè il cappello Che dice ste robe qua Ragazzi E chi lo segue Cosa volete che vi dica Cioè Purtroppo è così Siamo in un paese Veramente dove Vige La tutela Nei confronti Di chi sta simpatico Di chi è amico E' il paese Dell'amicizia Questo E' il paese Delle raccomandazioni E' il paese Delle Conoscenze E' il paese Appunto Della convenienza Si dice Quello che conviene Non quello che si pensa Questa è la verità Perché non posso pensare Che tutti questi opinionisti E o giornalisti Che difendono Allegri Pensano veramente Queste cose Non posso pensarlo Perché allora Effettivamente C'è un qualcosa Che non va A livello proprio Base Basilare Perché Non stiamo parlando Perché se ci fosse stato Un Tiago Motta Proprio Un Tenag Un allenatore del genere In questi tre anni Non ci sarebbe stata Una giustificazione Che ho sentito Per Allegri Mettiamoci anche Lo stesso Sarri Non ci sarebbe stata Una giustificazione Ci sarebbe solo Stato il massacro Verso questo allenatore qua E ha voglia di dire Tirare fuori il discorso E ma John Elkan Perché John Elkan Quando c'era Agnelli Quando vincevamo i 9 scudetti Fila Non c'era John Elkan E' sempre stato questo Prima Dopo Farsopoli Sempre stato questo Non gliene ha mai fregato Un cazzo Della Juventus Punto Mai fregato Un cazzo Quindi non è che lo scopriamo adesso Quindi adesso Tirare fuori il discorso Bisogna attaccare John Elkan A parte che io lo faccio Da quando mi sono messo su Youtube A parte questo Ma perché cascate tutti Dalle nuvole adesso Che il problema sia lui Mi pare che invece Venga tirato fuori il discorso John Elkan Semplicemente per Fare Dappar la fulmina John Elkan A favore di Allegri Dall'altra parte Che poi sappiamo benissimo Che Oltre che l'allenatore Che bisogna cambiarlo Non per i risultati Ma per l'entusiasmo Ok Vanno fatte Delle campagne acquisti Cioè Saremo folli A pensare Che questa squadra Va bene così Non va bene così Assolutamente E poi si andrà Una volta cambiato l'allenatore Si andrà ad analizzare Cosa fare sul mercato Cosa farà la società E quant'altro Si andrà a criticare L'allenatore in questione Il giocatore in questione Il dirigente in questione Ma si tornerà a farlo Parlando Di calcio Questo voglio Perché con Allegri Ormai non si può più Parlare di calcio Ma anche per colpa sua Perché lui È lui Che Ha iniziato Tutte queste battaglie ideologiche Non dall'altra parte Attenzione Perché Adani ha risposto E Adani ha tirato fuori Sta roba qua Perché Allegri Ha già iniziato A parlare I bel giochisti Tirando frecciatine Quando si dice Lui rispetta Gli altri colleghi Non ha mai rispettato Maurizio Sarri Questo va detto E il signore Allegri Quando mi dicono Che ama la Juve Vi ricordate Quello diceva il Milan? Vi ricordate la domanda Sugli squadetti della Juve? Che lui ha detto Eh sì no La Juve ne ha Non so quanti squadetti Ne ha Anzi ti dico Che ne ha 31 Perché conto anche Lo scudetto di Serie B Piccola frecciatina O tutta la polemica Dopo il gol di Montari Vi ricordate? Ah ma ci sono Alcuni Juventini Che addirittura Han detto Che lo scudetto Allegri L'ha perso Il primo anno di Conte Perché gli abbiamo Rubato il campionato Cioè siamo arrivati A questo punto Siamo arrivati A leggere Allegriani Che si considerano Juventini Che sperano Che Allegri Vada all'Inter E che ci batta In Ci batto Ci batto Ci batto Vabbè Insomma Vinca contro di noi In finale Di Champions League Ok Al 93esimo Mentre noi Dominiamo Con gli expetti Gol Possesso Palla Con un gol Da angolo E quant'altro E ci alzi La Champions League In faccia Questi sono Gli Juventini Tra virgolette O meglio Sono i tifosi Di Allegri Ma io spero Che se ne vada Anche per questo Perché Mi auguro Che voi Facciate le vostre valigie Prendiate E seguiate Il signor Massimiliano Allegri Perché io Non sono per le mezze misure Non sono moderato Non me ne frega un cazzo Le patenti di tifo Le ho subite Quando è tornato Allegri E non lo volevo Come qualcuno di noi Anche della Juventus E adesso le do pure io Le patenti di tifo Perché chi tifa Questo qua Non tifa Juventus Qua non è Essere pro contro Allegri Qua è essere pro contro Juventus Decidete da che parte stare Perché così Se continuate In un modo Nell'altro A difendere questo qua Questo individuo qua Non state Dalla parte della Juventus E della tifoseria Juventina Questo poco mi assicuro Punto Buona giornata a tutti Sempre comunque Fino alla fine Forza Juventus E liberate La Juventus Io continuerò A dirlo ogni video Liberate la Juventus Liberate la Juventus Aprite questa stanza Ok Aprite questa stanza Senza finestre Perché Con Allegri Ci sentiamo così Proprio Soffocare Con Allegri Buona giornata a tutti Buona giornata a tutti Buona giornata a tutti Buona giornata a tutti Buona giornata a tutti